Dottor Marco Missaglia, specialista in scienza della nutrizione, ha partecipato recentemente ad un importante autorevole convegno dedicato alla prevenzione del carcinoma mammario. I tumori si possono, si devono prevenire anche a tavola. Vuol dire mangiare meglio, mangiare degli alimenti che possono svolgere il ruolo di prevenzione ed evitare alcuni alimenti che invece possono essere dannosi come l'esagerata introduzione di alcolici. Quindi sappiamo che c'è il concetto delle unità alcoliche, dovremmo introdurre non più di due unità alcoliche se siamo uomini durante la giornata e nel caso delle signore non più di una unità alcolica al giorno. L'unità alcolica è un contenuto di alcol che possiamo trovare indifferentemente nella birra, piccola, non media, nel bicchiere di vino da 125 ml oppure nella porzione di superalcolico 40 ml fornito al bar. Parliamo anche di stili di vita, sicuramente l'inattività è uno dei fattori determinanti, il rischio oncologico aumentato e nel sesso maschile e nel sesso femminile. Così come anche l'indice di massa corporea aumentato, vuol dire cioè quel numero che otteniamo unendo il nostro peso diviso per il quadrato della nostra altezza. Ebbene, laddove abbiamo un indice di massa corporea superiore a 30 abbiamo un aumentato rischio di alcune neoplasie, come possono essere le neoplasie appunto della mammella ma anche della laringe, della faringe, del colon. Del colon abbiamo un aumentato rischio anche laddove introduciamo più di 500 grammi di carne rosse o di carni lavorate nella settimana. Cioè nei nostri 14 passi settimanali dovremo magari limitare a una o due volte le carni lavorate, favorendo magari le carni bianche, pollame, favorendo il pesce, favorendo i legumi. Quando parliamo di tumore dobbiamo anche ricordare la prevenzione legata agli screening e alle visite. A che età le consiglia di iniziare? Anche prima dei 40 anni. Il nostro sistema sanitario ci propone la mammografia gratuita a partire dai 45 anni. Io faccio oltre al nutrizionista anche il medico. Alle mie pazienti sicuramente consiglio di fare una valutazione mammografica ed ecografica complementare già ai 40 anni. A talune anche prima, visto anche magari particolari familiarità. E per quanto riguarda la mammografia, e per quanto riguarda il pap test, e poi per entrambi i sessi per quanto riguarda appunto la ricerca del sangue nelle feci. Non dimentichiamo fra l'altro l'opportunità dopo i 50 anni comunque di eseguire una colonoscopia.